Giornata quarta, amore e morte Finisce la terza giornata del Decameron e incomincia la quarta, nella quale, sotto il reggimento di Filostrato, si ragiona di coloro li cui amori ebbero infelice figlio. Tancredi, prenze di Salerno, uccide l'amante della figliuola e manda lei il cuore in una coppa d'oro, la quale, messa soppresso acqua avvelenata, quella si bee e così muore. Grazie a tutti.